E allora amici di Youtube, benvenuti o bentornati qua sul canale di Burki stasera mi so seguito il posticipo di Serie B partita che va analizzata in un certo modo tra Regina e Genoa dove a spuntarla sono i Calabresi sui Liguri prima di partire con il video vi invito a lasciare un like iscrivetevi tutti al canale di Burkiando lo Youtuber mare in mano perché qui la Serie B su questo canale è nostrana si parte da lunedì e si finisce alla domenica qui sul canale di Burki sul calcio allora due fattori hanno portato alla vittoria per me la Regina il fattore casa perché a parte la defiance con il Perugia è una squadra che ti concede pochissimo al granillo che sa quello che fa in campo e sa accettare anche un determinato gioco talvolta può affrontare squadre con pagini diciamo anche sulla carta che possono metterla in difficoltà perché la Regina sa sia tenere in mano il pallino del gioco ma è devastante se va in contropiede perché? perché il Genoa è una squadra che a livello di singoli a livello di individualità è una squadra forte è una squadra che ha fatto meglio fuori casa che in casa per quanto riguarda rendimento, ottenimento, punti però è una squadra che non riesce ad esprimere tutto il proprio potenziale e quindi la Regina che ha fatto? ha fatto ragazzi una fase difensiva impeccabile secondo me ha costretto il Genoa veramente a limitare sempre un gioco orizzontale giocando pochissimo verticalmente facendo una densità pazzesca a centro campo e ripartendoli davanti con gli uomini di qualità che ha con gli uomini di velocità di rapidità su tutti oggi Luigi Canotto che ha fatto un bellissimo primo gol e poi ha trovato comunque ecco dopo che aveva pareggiato a ramo un bel colpo di testa sul cross di Sabelli ha trovato il gol sul rigore e allora il primo rigore ragazzi qualche dubbio ci poteva essere però si poteva dare onestamente anche se è stato un po' troppo generoso secondo me però quei rigori si possono dare come non dare l'arbitro ha reputato opportuno darlo il secondo è un rigore netto è stato bravo Hernani a segnare perché comunque pesava quel rigore lì dal dischetto Menezza ha sbagliato comunque è stato bravo anche Semper a diciamo un po' disorientarlo con i movimenti mi è piaciuta molto la Regina squadra che per me ha un fattore molto molto importante oltre al fattore casa che si chiama sicuramente Filippo Inzaghi un allenatore che ti cura veramente nei minimi dettagli la fase difensiva e veramente sta dando tanto a questa squadra perché se si guardano comunque i nomi lì dietro una coppia centrale come Camporese e come ragazzi Gagliolo ti dà sicuramente tanta esperienza ma per me la vera forza di questa squadra è il centrocampo perché un centrocampo oggi composto da Fabian, Maier e Hernani è un centrocampo forte, forte, forte può comunque anche altre soluzioni questa squadra ha tante soluzioni però è veramente un assetto questo equilibrato e in grado anche di pungerti nel momento veramente che gli crea l'opportunità il Genoa il Genoa è una squadra che a me ragazzi da inizio anno dico che è la più forte come organico però è una squadra che non mi convince perché crea troppo poco gioca troppo orizzontalmente mi aspetto molto molto di più dai giocatori offensivi non si riesce a trovare diciamo un equilibrio forse sarebbe meglio per me giocare un po' diversamente un po' diversamente perché comunque si giochi con questo 4-2-3-1 ma potresti fare per me un 4-2-3-1 diverso un 4-2-3-1 diverso magari alzando anche un pochino di più gli esterni per me anche Diagliello è un giocatore in quella zona di campo non può essere efficace Gudmundson non mi scalda io veramente da gennaio mi aspetto un Genoa che intervenga su un esterno forse anche su un centrocampista centrale perché manca qualcosa a questa squadra cioè è una squadra forte perché se si guarda a livello di singoli è forte 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 però non mi convince pienamente non so il perché non mi piace come gioca non mi piace può fare molto 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 meglio o cambi sistema di gioco completamente ma gli interpreti per farlo non ci sono o devi trovare delle soluzioni diverse oppure perché no potresti fare magari un 4-3-2-1 un 4-3-1-2 cioè cambiare qualcosina lì davanti dello sviluppo di gioco da centrocampo in su perché poi la fase difensiva non la fa nemmeno malissimo al di là comunque dei meriti poi degli avversari però io cambierei qualcosa del centrocampo in su cioè fossi in blessina cambierei qualcosa lì ditemi la vostra cosa ne pensate perché sono molto molto curioso se mi è piacere iscrivetevi al canale e come dico sempre ciao a tutti ragazzi questa Serie B continua da regalarci colpi di scena ma è sicuramente un bellissimo campionato e oggi comunque la regina secondo me appunto ha vinto con merito